Bella mattinata al teatro La Perla di Montegranaro dove gli alunni e le alunne delle classi terze dell'istituto comprensivo della città sono stati invitati alla celebrazione delle scuole rosse con la presentazione di un annullo speciale di poste italiane riservato esclusivamente a loro Una iniziativa originale fortemente voluta dall'amministrazione comunale, dal sindaco Andrew Ubaldi in primis e dall'assessore Beverati, coadiuvati dall'ufficio cultura nella persona della dirigente Alessandra Levantesi Sindaco Ubaldi, perché questa iniziativa? È stata un'idea del Rotary Club di Montegranaro che è sempre molto attento, molto collaborativo con delle iniziative finalizzate a valorizzare il patrimonio del territorio ma anche le ricchezze culturali di Montegranaro venne il presidente ma era gennaio-febbraio scorso quindi era durante un combiviale mi disse Ubaldi a sindaco, noi ci piacerebbe praticamente valorizzare la filatelia nelle scuole dice ma secondo lei c'è sensibilità all'interno della dirigenza? Secondo me assolutamente, contattai la dirigente scolastica, subito fu entusiasta del progetto e loro mi dissero ma noi vorremmo fare però per questa occasione un annullo filatelico dice cosa possiamo rappresentare un monumento a Montegranaro, qualcosa di significativo? Dico beh, noi nel 2014, io ero assessore alla cultura e vice sindaco facciamo un annullo filatelico in occasione del quarto centenario di San Serafino con una bella moneta e valorizziamo questo nostro frate molto venerato, questo nostro santo dico perché non facciamo direttamente il luogo simbolo dei monterranaresi? Sono le scuole rosse, sono delle scuole edificate nel 1927 posti in pieno centro a circa 150-200 metri dalla piazza che è nel cuore di tutti i monterranaresi e molto belle architettonicamente e subito fuori entusiasti, quindi oggi c'è stato questo annullo filatelico noi abbiamo qui riproposto, questa è una cartonina che io avevo di tanti anni fa, del 2004 ecco l'annullo praticamente delle scuole rosse e poi ci ho fatto anche rientrare il francovolo celebrativo dello scudetto delle scuole del cuore che non guasta però è stata una bellissima idea da parte dei Rotari con pieno accoglimento della dirigenza scolastica, dei ragazzi che oggi sono presenti ai terzi e medie ma anche l'importanza della filatelico, oramai non lo sono più, sono stato un collezionista di francovoli soprattutto negli anni dell'infanzia, negli anni a scuole superiori che arrivavano le spedizioni dall'estero ho una collezione di circa 4.120-4.130 francovoli l'ho ripresa un po' durante il periodo del lockdown che c'era più tempo di stare a casa ma non ho tempo di seguirla ma è molto bella, la ricordo con piacere vedendo questi volumi a casa per i percorri anni più belli dell'infanzia la cultura sostanzialmente, la nostra storia, le radici, le tradizioni da trasmettere perché questi sono ragazzi nativi digitali ma abbiamo visto anche attraverso il racconto di un esperto potrebbe accendersi qualcosa di interessante anche per loro magari, magari fosse così, io a casa ho due figlie ci provo, una ha 16, un'altra ha 11 anni una volta le ho viste un po' curiosi, ma babbo come facevi? io ho spiegato, ci sono tuttora tante aziende a Monteranaro che hanno rapporti con aziende estere quindi sono molti dell'estero ho circa 72-73, adesso forse sbaglio ho un francovoli in azione da diversa però sono molto appassionato della storia quindi come diceva lei, magari, oggi io dico purtroppo li vedo questi ragazzi, io li chiamo la generazione dei test all'inciù, sempre col telefonino si riuscisse a metterle a testa all'inciù anche per, come facevamo noi mettere a bagno queste buste che arrivavano vedete, staccare il francovolo con la pinzetta farlo asciugare e inserirlo nell'album non sarà semplice, anche perché l'ho visto in quest'estate, io sono un appassionato di cartoline quando vado fuori per le persone del cuore ma mi dicono anche chi vende le cartoline ne siete sempre di meno e arrivano sempre meno cartoline però la speranza è tutto preziosa la collaborazione con il Rotary Club Montegranaro che ha da subito accolto la proposta del sindaco dando inizio al liter per ottenere l'annullo filatelico che per inciso entrerà a far parte della collezione storico postale e sarà esposto presso il museo storico delle poste telecomunicazioni amministrazione che ha voluto omaggiare il presidente del Rotary Club Santoni con un'opera dell'artista locale a Vaglianucci dedicata proprio alle scuole rosse Stefano Santoni è il presidente del Rotary Club di Montegranaro questa iniziativa da che cosa prende spunto? rivolta ai ragazzi con quale anche intenzionalità? Dunque, prima di tutto l'intenzionalità è quella di avvicinare i ragazzi alla filatelia anche per fare in modo che si allontanino se è possibile dai computer, dai tablet, dai telefonini perché è una cosa molto bella magari è bella per noi anziani però, ecco, questo è lo scopo di questa iniziativa che il Rotary di Montegranaro ha voluto intraprendere in collegamento con la scuola che è stata disponibilissima con l'autorità, con il sindaco e con altre persone e soprattutto con i soci del club che si sono dati tanto, tanto, tanto da fare Ricordiamo che la finalità, ecco, educativa è nella storia, nel DNA del Rotary questa è solo una iniziativa? Sì, infatti ne abbiamo altre tre in questo mese che inizia oggi una dedicata allo screening carotideo per la prevenzione dell'ictus poi abbiamo un concerto con un fissarmonicista e un violinista in chiesa qui a San Francesco e poi l'ultima, almeno per questo mese riguarda il melograno coinvolgendo anche le scuole Intanto l'annullo filatelico resta un ricordo per la città e per chi lo possederà Assolutamente sì perché questo annullo vale oggi poi rimarrà per 120 giorni presso le poste centrali di Fermo dopodiché andrà nell'archivio storico delle poste e chi vorrà l'annullo i Marcofili perché sono quelli che fanno la collezione dei timbri dovrà rivolgersi a Fermo e questo vale sia per italiani che per stranieri Un'iniziativa che rientra nel progetto più ampio denominato La Filatelia incontra alla scuola e che ha visto gli interventi anche della dirigente dell'Istituto Comprensivo la professoressa Chiara Cudini come esperto sull'argomento Angelo Belelli del Circolo Culturale Numismatico e Filatelico di Recanati nonché la direzione di poste italiane di Fermo Antonio Grisostomi è direttore di Filiale parliamo di una giornata un po' speciale come lo è ogni volta che c'è un annullo L'annullo è sempre un momento molto importante è una celebrazione di qualcosa di importante con l'annullo di oggi si vuole celebrare una volontà della comunità di Monte Granaro rispetto alle scuole rosse quindi questa è la celebrazione di oggi partecipiamo con piacere voglio ringraziare il sindaco il Rotary Club la professoressa che hanno così dato vita a questa bellissima manifestazione a cui sono onorato di partecipare oggi la filatelia è un mondo qui ci sono i giovani anche loro sono un po' appassionati secondo lei? guardi allora la filatelia è un mondo molto vasto la passione solitamente arriva qualche anno dopo rispetto ai giovani che abbiamo oggi qui ma vi sono sì molti giovani che si appassionano alla filatelia in particolare si avvicinano in base ai loro interessi più vicini quali possono essere delle rappresentazioni di manifestazioni sportive di personaggi importanti sia maschili che femminili quindi questi sono di solito i primi interessi che poi maturano e si scopre la bellezza del collezionismo filatelico grazie a tutti grazie a tutti